qui ciao giuseppe come diamo tutto bene morì allora che fai capolo c'è un bel campo alle spalle eh eh dai ho cambiato lo sfondo ho messo due squadre un po serie si guarda guarda che ti manca eh guarda eh manca quella manca è vero eh questa manca si manca eh vabbè manca però è purtroppo il periodo è quello che è manca tutto manca tutto si manca davvero tutto un gran casino eh sì purtroppo era purtroppo drammaticamente era facilmente un po prevedibile ora speriamo che è una partitina un po ancora lunga ma speriamo dai via di migliorare dai di migliorare senti ma se due squadre che uno su una vedo capitano mi pare Filippella? Sì sono quelli gialli sono quelli gialli e quelli blu quelli blu è l'api comandante ma beh eh sai com'è guarda c'ho pure la penna vedi c'ho pure la penna spettacolo sei preparatissimo sai c'è sta cosa sta campagna elettorale sono un po un po flosci eh però un po moscia che dici senti facciamo una cosa visto che siamo reduci dalla campagna americana no? Sì accendiamo un po pure sta campagna diciamo verso la presidenza FISC che dici? Mi piace ora 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 senza che facciamo la recita c'è venuto in mente oggi così alla alla matti quindi che abbiamo pensato? Dillo tu va? Dillo tu ma dai abbiamo pensato di tornare alla alla ai vecchi tempi la la grande mitica tribuna politica vecchia scuola dove cinque eh persone che non sono chiaramente parte di quello che sono le liste si confrontano e discutono di quello che sono le idee che stanno portando avanti i i vari candidati certo certo e non ci fermiamo qua perché visto che i programmi hai visto tutte e due parlano di comunicazioni ma una ha fatto i programmi una lista fatta così cominciamo subito mettiamo un po di pepe una lista ha fatto i programmi spot e un'altra ha fatto una lettera semi personale eh allora noi non ci accontentiamo e pensiamo di fare anche una cortesia ai tesserati a tutti i tesserati a tutti i club eccetera approfondendo questi programmi quindi faremo organizzeremo non sa niente nessuno lo stiamo svelando adesso organizzeremo una serie di duelli eh video che poi pubblichi pubblicherai su sulla tua testata certamente poi sarà condivisa e chi lo vuole vedere li vede e chi lo vuole commentare li commenta tra i candidati dei principali dipartimenti diciamo così no quindi pensavi tu sport ma secondo me sport segreteria sicuramente che sono certo strategici e poi vabbè il duellone finale presidente contro presidente secondo me ci sta esattamente esattamente noi li li inviteremo li invitiamo fisseremo le date faremo le domande pesantine insomma diciamo via da giornalisti veri nei limiti del possibile se qua tutti quanti si svegliano la mattina e vogliono fare no diciamo nel tuo caso giornalisti veri nel mio da aspirante eh no vabbè ma te leggo te leggo sei sulla splendida strada quindi secondo me ci divertiamo un po riaccendiamo un po gli obiettivi ora a parte gli scherzi a parte le battute io credo che il futuro poi sarà abbastanza complicato e anche interessante quindi secondo me è giusto che si confrontino e che escano fuori le idee quello che vogliono fare come la pensano come la vivono in un momento come questo dove i tornei non ce l'abbiamo i commenti sui campionati non si possono fare almeno poi tribuna politica vera no almeno quello dai ascolta allora facciamo così partiamo domani sera alle 21 partiamo subito con una bella tribuna politica e adesso vediamo gli ospiti sicuramente ci sarà Stefano De Francesco che ha già confermato ecco bello così capito male che vai Stefano ma ti becchiamo un po' e l'audience è garantita dai altri due o tre li troviamo e vediamo e vediamo poi poi accendiamo i duelli ora li studiamo studiamo le date saranno dei duelli seri non come abbiamo assistito a quelle insomma le politiche nostre quelle reali di casa nostra li mettiamo lì con l'orologio li interrompiamo li incalziamo eh beh del resto del resto chi vuole guidare questa federazione in quello che è un momento storico deve avere i maroni no per fatto esatto noi facciamo un bel servizio per tutti i tesserati facciamo le domande che farebbero loro poi tra l'altro che siamo due tronzettini lo sanno tutti e chi se ne frega guarda guarda a domani sera a domani sera alle 21 ciao Giuseppe ciao Mauri